Quindi diciamo un mandato allo scuola. Un mandato allo scuola, un mandato allo scuola. Un mandato allo scuola, un mandato allo scuola. Perché è che sta facendo giusto. Grazie. Allora, abbiamo stasera un nome di questo. Un altro nome, Noah Power. Rebecca Spader. Grazie a tutti. La vita era quasi normale e quindi si andava per divertirsi. Il nostro spettacolo di questa sera infatti vuole dare un arco di tutto quello che succedeva in quel periodo, tra cui anche l'opera comica. Ma da quest'opera comica abbiamo scelto un trame molto toccante. Siamo di nuovo le stelle e infatti vi presentiamo un notturno, un notturno da pure innamorati, che fugacemente si incontra e succede soprattutto innamorati. Un momento magico. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.